È uscito, abbastanza sorpresa, su Prime Video, un film che attendevo con una discreta curiosità. Ve lo voglio consigliare, anche se con qualche riserva. Si tratta di... Censor. La protagonista è Enid e lavora in un ufficio di censura cinematografica, quindi quei simpaticoni che tagliano i nostri amati film horror, eliminando le parti più crude, più violente. Lei ha molta esperienza nell'ambito, una chiara deformazione professionale, ma tutto cambia quando un giorno visiona un film che sembra avere per protagonista sua sorella che è scomparsa da un sacco di tempo e né lei né i loro genitori hanno mai scoperto niente su che cosa le sia successo. Comincia un'indagine per la protagonista, dove la realtà, il film, l'immaginazione si mischieranno e questo secondo me è il punto forte, il punto debole di Censor, perché è un film che risulta inutilmente lento. Con queste sequenze pseudoniriche che fanno perdere quella che doveva essere la vera carica del film, che risulta, secondo me, potenzialmente anche molto innovativo. Su certe cose un po' alla Thesis, su altre alla Sigaret Burns e alla Antrum, lo so che molti di voi non detestano Antrum, però si perde, peccato, perché anche la protagonista era molto brava. E voi lo guarderete? Che ne pensate? Top o flop? Ditecelo nei commenti e salvate il reel come promemoria.